Macaroff era sempre un passo avanti. Ora ha lasciato migliaia di cadaveri ai piedi di un americano. Solo noi sappiamo che è stato Macaroff. La nostra credibilità è morta con Allen. Servono prove. Non fatevi ingannare. Alejandro Rojas. Mai sentito. È noto come Alex in Russo. Ha finanziato l'assalto. Un proiettile per scatenare la furia di un'intera nazione. Che significa... Che è il nostro biglietto per Macaroff? I blindati sono un problema. Ricevuto. Nessuna traccia del braccio destro di Rojas. Negativo. Si sono fermati già due volte. Nessuna traccia di lui. Un attimo. Si sono fermati ancora. Aspettate. Identificazione positiva. Chiunque siano quei tizi non sono troppo contenti di vederlo. Ghost, abbiamo un problema. Joe, Joe! Sta scappando la roccia. Andiamo, andiamo! Ghost, il nostro autista è morto. Siamo a piedi. Raggiungici all'hotel Rio. Blocca lo settore. Ricevuto. Sto andando. Ha preso quella mia. Solo colpi non letali. Ricordati che ci serve vivo. Roach! Spara gli allegati. È a terra. Roach, ci vorrà un po'. Per lustra la favela con Meath e Rojas e cerca... Ricordati, la favela è piena di civili. Attento a dove stai. Occhi aperti. Meath, porta via questi civili. Ricevuto. Sento a chi, De Plessio! Contatto. Finestra a terra. Ricevuto. Finestra a guadalotera. Sparamo sei. Attenzione. Abbiamo incontrato gruppe nemiche nel paese più in basso. Roach, ci sono! Contrata i testi, vai! Contatto. Palazzo, grazie a terra. Contesto. Contatto. Contatto. 受istem sempre. Contatto. Contatto. Questa forma si muove il caso. Contatto. 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 Muevesi! Entrezca! Portatto. Grazie. 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 Socorro! Socorro! Grazie. Grazie. Ja, d loophole! ricevuto bersaglio agganciato ingresso ricevuto ricarica usarei 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 Volta qui, dè una bala per colocare la tua cabeça! Bate lì fuori! Corra, vate, a cobertura! Royce, al rapporto, passo! Troppo in quantità, fate una traccia di acqua, passo! Continuate a cercare, fatemi sapere se lo avvittate! Cezzano! Mova-te! Andiamo! Veo uno che sta scappando, sui amiciliare e sui apriani! Tu non vieni a te ombre, tu ti tá me oviendo? Mi dà un po' da onde? Mi dà un po' di... Sai da frente, voi tirare una granada! T'o se escondendo, fra lì, frate, 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 frate... Vole, vòi! Li vato il più possibile, vòi, vòi! Il bersaglio è in movimento. Attenti a dove sparate! Il bersaglio è in movimento! R.B.B. Bersaglio è ori 11. R.B. Bersaglio è ori 11. Bersaglio è ori 11. Mito a terra! Ripeto, Mito a terra! Mito a terra! Mito a terra! Põe minas explosivas nessas entradas! Como a gente treinou! Traga a ordem do... Contato a tudo, homem! Atenciones! RGG! Atenciones! Ele tá indo pelo outro lado! Pega ele! Pega ele! Ele foi atingido! Vai no telhado! Vai no telhado! Vai, vai! Trote! Ele foi atingido! Que desmonte! Vai, que amarela, que amarela! Não vai, não vai, não vai! Não vai, não vai, não vai! Não vai, não vai, não vai! Inimigos, adiante, alerta! Vai ter que tratar em área! Ah! Olha o outro! Táre a arma! Vou arrancar tua linha! Não vai ter que ter que me entrar nisso! Ele foi atingido assim! Ele foi atingido! Ele foi atingido! Ele foi atingido em casa dele! Ele foi atingido em casa dele! Trocando de arma! Ele foi atingido em casa! Senta tra di loro con vita, potremmo spettare il riscato per loro. Soccorre, soccorre! Soccorre, soccorre! Soccorre, soccorre! Soccorre, soccorre! Soccorre, soccorre! Ehi, ragazzi! Tentate a prenderlo con vinta! Podiamo chiedere per loro! Ehi! Vanno a prenderlo con una granata! Vanno a prenderlo! 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 Vanno a prenderlo con auto Ah! Alzzatelo su! Rose, siamo sottotiro ma riesco ancora a seguire Loan. È entrato in un edificio. Ghost, lo vedi? Ricevuto, si sta arrampicando. Ponte tu, a costa è una borsa. Questo dovrebbe rallentarlo. Rose, faremo in modo che non torni indietro. Tu vai avanti e intercettalo, vai? Opre il segnale su lezzi, matta tutto il mondo. Muoversi! Rose, è ancora diretto verso il tuo lato della favera! Roach, non farti bloccare troppo! Usa le granate accecanti sulle milizie! L'ho perso di nuovo! Ghost, raffronti! Ce l'ho! Sta cercando di tornare indietro passando da sotto! Ricevuto, sveglia giotto! Inimigo, da esquerda! Sei, sta vedo ele? Come perdendo o cuore dos homens aqui! Vamo muro da bala, com o velho da armatura! Vamo muro da bala, com o velho da armatura! Vamo muro da bala, com o velho da armatura! Vamo muro da armatura! Vamo muro da armatura! Tu vai le desanducate nel'entrata da favera! Tu non t'ha con me da armatura! Ho un atto misivo con roca! Sto attraversando il mercato! Ricevuto! Vado verso i detti e provo a bloccarlo sulla destra! Non avrò altra scelta se non andare verso ovest! Gettet! You never learn, do you? Gettet! Sono sottotiro! Non credo di riuscire a seguirlo attraverso il mercato! Devo trovare un'altra soluzione! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Roads, ho individuato Roads, sta scappando verso di te! Non sparargli, ci serve vivo e incolume! Roads, lo blocchiamo in cima! Continua a spingerlo in quella direzione, vai! Lo blocchiamo in cima, vai, vai! Lo blocchiamo in cima! Tu... Ah Io vivi qui da quando nasci Tu pensi che è più malato che io? Perché non mi raccoglie il contratto per me conto di cavalo? Sempre mi raccoglie! No ci sono di aprire il nostro per il esquerdo! Tu mi raccoglie molto molto con il polizio, come tu nella città! Tu non lo capisco, non è? Il mio figlio è il fogo nello! Non c'è qualcosa! Non c'è qualcosa! T'ho sconduto per lì! Prendi trezze uomini! Prendi il figlio delietto! E mati a loro per cima! Vai, vai! Solti a tutti noi da destra! Io moro qui dentro di cui nasci. Tu è più malato che io qui? Solti a tutti noi! Recarregando! Polizia! Solti a tutti noi! Solti a tutti noi! Prendi trezze uomini! Solti a tutti noi! 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 È più malato che io! Solti a tutti noi! I'm going to catch your tongue out! Voi rancar tua lingua e fare tu come ella in pedacini! Tiamo tentando cercare questa posizione! Tiamo perdendo molto uomo! Pega ele! Pega ele! Pega il niente! Pega il niente! Pega il niente! Non lo so, c'è il niente! La fafera è sotto il niente! Meti i matatori, crimini! Non lo so! Ha terminato la munizione! Il si è tenuto! Non è possibile! Mi sta aiutando l'altro lato! Pega' lui! Ghost vuole prendere quella moto! Non credo proprio! Abbiamo Roche sotto occhio! Un attimo! Merda! Sta tornando verso di te! Roche è di nuovo diretto a destra! Roche se lo vedi non sparargli! Mi serve intero! Roche continua a spingerlo verso la cima! Non lasciare che torni! Roche si sta muovendo verso di te! Vai! Vai! Roche ha scavalcato un'altra recensione ed è ancora diretto verso il tuo lato della favela! Muoviti! Vai! E continua a spingerlo in cima! Non blocchiamo lassù! Lo vedo! È la giusta! Stai volando dai tetti di lamiera! C'è campo libero per colpirlo alla gamba! Negativo! A meno che tu non voglia portarlo fuori con le sue milizie che ti tocchiano sul collo! Mi serve intero! Mi saio di l'altro lato! Pega' lui! Pega' lui! Sto perdendo molti uomini a te! La sera fidendo un'altra recensione il che vi tendo una recensione! Sì! Lama per la line che è morto, he's dead! Ghost, mi allontano a destra! Ricevuto! Sta scappando! Io non credo! Qui, bravo sei! Abbiamo recuperato il pacco! Ripeto, abbiamo recuperato il pacco! Comando, pronti al decollo! Inviate l'elicottero! Invio cordi... Cazzate! Lo spazio aereo è libero! Mandate l'elicottero, ora! Il comando dice una marea di stronzate, siamo da soli!